Conviene realmente investire in etf? Beh la risposta è sì, anche se questo vuol dire scontrarsi con la propria banca, a volte in modo molto duro. Ben trovati, io sono Giacomo e sono qui ogni martedì per darvi in 2-3 minuti delle pillole di educazione finanziaria. So che poco, di fatti per chi vuole approfondire c'è un corso gratuito che si chiama Welcome, di cui vi lascio il link in descrizione che vi aiuterà a investire in modo autonomo. Parliamo di etf. Gli etf sono convenienti per una serie di ragioni, ve ne dico due. Primo, costano poco, i fondi comuni di investimento costano circa l'1,50% all'anno, il che significa che su 100.000 euro ne pagate 1.500 di commissioni, gli etf costano lo 0,10, quindi molto molto poco. Due, eliminano il rischio gestore, ovvero il rischio che il gestore che cerca di fare meglio del mercato sottostante al proprio fondo non riesca a battere lo stesso. Quindi diverse analisi hanno dimostrato che il 90 e più per cento di fondi ottiene rendimenti inferiori al proprio benchmark, gli etf replicano il vostro benchmark. Dov'è il problema? Ve lo dico subito, il problema sono le banche. Le banche non ricevono i cosiddetti inducement, ovvero non hanno nessuna retrocessione di commissioni da parte degli etf. Gli etf tecnicamente stanno in un conto amministrato e non in un conto gestito. Questo è il motivo per cui le banche li odiano così tanto. È vero che gli etf sono insicuri? Certamente no, perché gli etf replica fisica sono esattamente come i fondi comuni di investimento, ovvero al loro interno hanno i titoli che compongono gli indici che si va a replicare. Gli etf replica sintetica è vero che replicano il sottostante usando dei derivati e i derivati tipicamente degli swap hanno rischio controparte. Ma è pur vero che esiste o un basket sostitutivo o un collaterale. In entrambi i casi si tratta di titoli dati a garanzia delle posizioni. Fatto sta che dal 2002, anno in cui sono approdati in Italia, nessun etf è fallito nonostante siano passati attraverso la crisi della Lehman Brothers. Quindi investire in etf è conveniente, sicuro e anche redditizio perché se hai creato un portafoglio equilibrato con gli etf giusti non potrete pentirvene. Mi raccomando like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Io vi aspetto martedì con un nuovo contenuto per la vostra formazione. A presto!